Reati ambientali, i carabinieri, le guardie ambientali Accademia Cronos di Salerno hanno identificato e denunciato il titolare di un'azienda zootecnica originaria di Altavilla che smaltiva illecitamente i reflui provenienti nelle vasche di stoccaggio dall'insilato dei canali consortili e nei terreni aziendali determinando l'inquinamento del suolo. Gli inquirenti hanno anche trovato in un vicino fondo agricolo centinaia di tani che hanno smaltite. Al termine delle operazioni di ispezioni i carabinieri di Borgo Carilla ed il personale Accademia Cronos hanno proceduto al sequestro di alcune strutture aziendali e della denuncia all'autorità giudiziaria dell'imprenditore agricolo per illecito smaltimento di rifiuti e realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.